Bella a tutti ragazzi, lo xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. È iniziata la sfida da 20 corone del 2021 e anche per quest'anno cercheremo un deck che ci possa far arrivare il più possibile fino alla fine. Come vedete ci sono un sacco di ricompense più due bauli, quello epico e quello del re leggendario, oltre che se arrivate a 20 vittorie vincereste 100.000 oro e un emblema sul vostro profilo, quindi un metodo di vanto abbastanza importante. Il deck che voglio utilizzare oggi è quello con Log Rider e una specie di Cycle, è una specie di Cycle perché come vedete utilizza in realtà una struttura un pochettino più importante del cannone che è la Tesla, ma abbiamo pochissime truppe, quindi l'arciere pirotecnico, la Valkyrie in difesa e poi spiritello di fuoco e scheletrini per appunto permettere il Cycle al Log. Ci buttiamo Super dentro e vediamo Super Sabros, è il team proprio con cui fa parte il giocatore, Cerc, diciassettesimo, subito Tesla per andare a counterare Log Rider. Riusciamo ad evitare che Log possa andare ad impattare, attenzione perché è pronto proprio adesso, anche lui vedo che gioca con una struttura. Il cannone Log Rider che riesce a passare, forse un 8 la tira, non la tira però, pesantissimo il fatto che purtroppo l'arciere pirotecnico è riuscito ad andare ad attivare la torre centrale, noi comunque con la Tesla non ci dobbiamo preoccupare di nulla, riusciamo a deviare nuovamente l'attacco dello Log Rider. Qua avrei dovuto giocare leggermente più veloce, ma non è un problema, artieri più tecnico per noi, moschettiere per lui. Volevo fare proprio questa play, aspettiamo, 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 aspettiamo. Non va a locare infatti il cannone, perfetto, è ottimo anche questo tronco per togliere i suoi scheletrini, Log Rider che può trarre due hit importanti, attenzione perché adesso ripartirà Log Rider. Non riusciamo a toglierlo purtroppo, ma c'è la Tesla che comunque riesce ad andare a dar fastidio, spirito del fuoco da dietro, è pronto il cannone per lui, 100-100 ma c'è già la Valkyrie sopra, Log Rider perfetto insieme allo spirito del fuoco, il cannone è eliminato e lo spirito del fuoco può andare ad impattare di nuovo sugli scheletrini, molto bella questa play ragazzi, Log Rider che può tirare delle altre hit importanti, scheletrini pronti, lui giocherà il moschettiere da dietro, arciere più tecnico, cicliamo un tronco, non so se si sia reso o meno, io vado, credo che si sia reso, let's go! Ha capito di non poter fare nulla e quindi va il Chirione davanti, come vedete ragazzi questo deck gira veramente bene. Andiamo, 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 un altro Valkyrie, io andrei per le tre corone e non dovrebbe essere impossibile questa cosa, easy con ben 10 secondi e rotti di scarto, il primo game ce lo siamo portati a casa, molto bene. La prima è andata, ci prendiamo la nostra, ah, non abbiamo ricompense con una vittoria, ma iniziano con due win, Nurik, Kazaa, Stan. Facciamo subito anche noi un'apertura adesso con l'arciere pirotecnico, l'arciere pirotecnico è anche per lui, vado a toglierlo. Ok, la regina degli arcieri, che va sullo Grider. Abbiamo questi scheletrini che hanno fatto malissimo al suo Peccon, Pecchino. Vediamo se l'arciere, bellissima, bellissima questa play dell'arciere, regina degli arcieri che non riesce ad utilizzare la sua abilità. E qua purtroppo il tronco che va a togliere il mio arciere pirotecnico, ma c'è la Valkyrie che si sta avvicinando. Vediamo se riusciamo a fare di nuovo la play. Con uno spirito del fuoco in aiuto, ha delle strutture, lui non ha strutture, solo che qui siamo rovinati. Eh, farà male questo Pecchino, ragazzi. Cioè, tirerà almeno due hit. Faceva veramente male. 1.400, 1.600, ho fatto bene in realtà, credo a giocare il pirotecnico, perché mi ha permesso di evitare che il Pecca potesse fare 3 hit. Qua in realtà non abbiamo problemi. Ripartiamo con Logrider, lui ha specchiato il Pecca, non ho capito perché. 1. Uh, 2. Serve immediatamente. Tiremo il Gran Cavaliere il più dentro possibile. Ecco, volevo evitare appunto l'attacco. Perfetto questo spiritino. Molto, molto bene. Non so se riusciremo a tirare uno Grider. Non credo. Pecchino per lui, fermo, non facciamo nulla, non facciamo nulla. Fermo, 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 fermo. Lui non ha la zap, tra le altre cose. Di nuovo il pirotecnico. Non sa che abbiamo il fulmine, eh, attenzione. Ok. Una la hit, ok. Una hit la tirata. Bellissima qua la Tesla che aiuta. Un sacco, possiamo ripartire. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, la scintilla, dove l'ha trovata? Fermo. Bellissima, intanto 200. Ok, nice, nice. Andiamo a counterare con il tronco. Il suo varile, perfetto. Ci siamo. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Let's go! E andiamo a chiudere anche questa seconda partita in una maniera abbastanza netta. Molto bene, intanto ci vinciamo i primi 2.500 di gold e vi ricordo sempre, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, lasciate un bel like, ragazzi, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere su YouTube. Dai, e? Ok, andiamo con l'Hog. Ok, ha ignorato completamente il cannone. Bellissima queste due hit dell'Hog Rider. Spostiamolo, spostiamolo. Può giocare un altro cannone lui, senz'altro. Ui, il peccone, attenzione. Un'altra hit dell'Hog. Ok. Vorrei evitare che il mio povero arciere pilotecnico venga fermato. Ed infatti così è. E se io gioco davanti a una Valkyria? Erk, giù, doveva essere più veloce. Peccato. Lasciamo il Valkyrie da solo? Ok, si potrebbe andare a fare. In realtà il... Lo credono ad andare sul cannone, ma è una hit sola. Poi può spostarsi. Forse gliela tira. Let's go. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Scheletrini dietro. Andiamo a spostare l'Hog. Riusciamo a counterarlo con gli scheletrini. E qua il suo moschettiere può entrare... Due hit per il moschettiere. 1.460, la sua torre in alto a sinistra. 2.211, la mia in basso a sinistra. Ripartiamo. Non diamogli modo di strutturare l'attacco, la difesa. Lui non sa che abbiamo il fulmine. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Va bene, va bene, va bene. Lui ha sempre quel peccone lì che è scomodissimo. Il fulmine è alla torre. Quanto danno fa? Non me lo ricordo. Spostiamo Log Rider. Ok, forza con la Tesla. Vediamo se riusciamo a ripartire noi con un Cycle. Dovremmo giocare il pecca centrale adesso. Porca miseria, bravo anche lui però, eh. Non riesce a tirare il... Non riesce a tirare come vuole. Pronta la Tesla. Interessante il predict. Riesce a tirare una hit con Log Rider. Comincia a diventare scomoda questa cosa. Cambia tutto. Cambia tutto, cambia tutto. Log Rider dall'altra parte. Ok, non se lo aspettava. Apriamoci un'altra possibilità intanto. Pensa te come ha ciclato e come è riuscito a girare il game. 2. Log Rider che continua intanto a martellare sull'altra torre. Andiamo col fulmine. Tesla. Fermiamo di nuovo Log. Facciamolo noi questo Cycle. Vorrebbe giocare comunque il tronco. Io comincerei a pensare con il fulmine. E' una follia. E' una follia. Eh sì, eccolo qua il mio errore che mi fa perdere la partita. Ci sta. Ci sta l'errore mio. Non dovevo andare con il fulmine. Non dovevo gasarmi con il fulmine. Molto bello anche il suo deck, ragazzi. Beh, due vittorie le abbiamo fatte. Una purtroppo... Dai, facciamo l'ultima. Ci buttiamo dentro. Ci buttiamo dentro nell'ultima. Dai, dai, dai. Oggi video è un po' più lungo del solito. Vai, subito con Log. Let's go, let's go, let's go. Andiamo, andiamo, andiamo. Grider e Spirito del Fuoco. Usano tutti lo stesso deck. What up? Questo usa lo stesso mio deck, credo. Perlomeno mi sembra. Vediamo se parte con Log anche lui adesso. Ok, è lo stesso deck, easy. Ma... Ronco. Fermiamolo questo Grider. Fermiamolo. Please stop the Hog. Please stop the Hog. Vediamo se ha la struttura. Eccolo, è uguale. Ma what? Andiamo. Si vede che è un God Deck. Si, è sputato uguale. Quindi sappiamo che lui ha il fulmine. Lasciamo pure l'arciere pirotecnico sulla sinistra. Può andare a fare le sue hit. Non ci interessa. Farà un paio di hit. Forse una sola. Ok. Ci sta? Eh sì, qua è colpa mia. Ovviamente c'è al tronco. Giusto, 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 giusto. Io sono lì, se la gioca semplicemente in attesa. Eh, giocalo questo Grider. Ah, giocalo, giocalo. Andiamo a fermare il Valkyrione. Anche lui la Tesla, quindi. Credo che non... Ovvio. Riuscirà a giocarla? Sicuramente riuscirà a giocarla. Mi countererà lo Grider. Eh, sì, Tesla disponibile, ovviamente. E quindi nulla da fare. Dobbiamo aspettare. È pazzesco questo Mirror Match. Oh. My. God. Andiamo a vedere un pochettino. Parciere pirotecnico. Di nuovo. E allora aspettiamo adesso. Non demordiamo, non gliela faccio vincere. Ha miscliccato forte qua, eh. Fulmine anche per me. Ho Grider che può entrare. Tesla pronta, ma attenzione al suo fulmine che arriverà. Senz'altro. Il fulmine arriva adesso. Interessava che si salvasse qualcosa. Niente, lui riesce a farmi la Tower. This is super bad. This is super bad. Ah 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 ah. Seconda Tesla. Bravo. Well played, well played, my friend. Well played, my friend. Well played. Va bene ragazzi, io spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Quello nel tentativo di riuscire ad andare a portarci a casa le 20 vittorie sulla Clash Royale sfida 2021. Non ce l'ho mai fatta dal 2016, che in realtà non c'era nel 2016, c'era nel 2017. Mi auguro di riuscire a farcela, magari con un altro deck che vi farò vedere. Io vi mando un abbraccio grande, un bacione. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao! Ciao! Ciao!